Attualmente ci sono 440 studenti tra i due indirizzi messi insieme. Lo storico istituto professionale, il tecnico che sta aumentando perché 4 anni fa è stato inaugurato e siamo al limite. Da quest'anno non ci saranno più aule per i nuovi iscritti e dunque abbiamo creato un progetto chiamato Progetto CASCO. Si chiama Cantiere Scuola Osasco, CASCO, associazione costituita da studenti, da genitori e da insegnanti che ha lanciato l'obiettivo di raggiungere entro il 31 maggio i fondi necessari per almeno costruire un primo fabbricato con tre aule e garantire la possibilità a tutti i nuovi iscritti e a tutti gli attuali iscritti di avere ospitalità nella scuola che hanno scelto. Di fatto il crowdfunding è iniziato a gennaio, è cresciuto, non ci credeva nessuno all'inizio, e adesso siamo ormai a 15 giorni, poco più, 20 giorni dalla fine del progetto e però abbiamo già 58 mila erotti dei 60 mila euro. Abbiamo in mente altri progetti che avendo un traguardo di 60 mila euro, quasi raggiunto, ce ne mancano poco più di 5 mila per fare il primo fabbricato e per avere quattro aule in più. Questo ospiterà tre aule con i servizi ed era il progetto casco che ci dovrà permettere di ospitare tutti i nuovi allievi e gli attuali allievi che superano quindi la capienza dal primo settembre, dall'11 settembre se non sbaglio dell'anno prossimo. Il progetto probabilmente andrà avanti, troveremo nuovi entusiasmo e nuova forza e lo stesso faremo con l'altro fabbricato. Quindi ci sarà un casco 2 l'anno prossimo in cui ripartiremo da zero, speriamo che coloro che hanno sostenuto il progetto con l'entusiasmo per cui il progetto si è realizzato, ci saranno le aule nuove, diranno riprendiamo, andiamo avanti. La donazione maggiore sicuramente è stata quella grazie all'otto per mille della Chiesa Valdese, che è stato un finanziamento di 10 mila euro. Tutti gli altri vengono da questo azionariato popolare, da questo sostegno diffuso con 179 donazioni piccole o grandi. Un'altra manifestazione che abbiamo fatto per raccogliere i soldi per la casco è stata la fiera di scalenghe in cui abbiamo organizzato una gara di bocce quadre e varie stime come al maiale e al coniglio. Siamo riusciti anche grazie all'aiuto di Proloco e Comune di Scalenghe a guadagnare 1100 euro. Casco è stata la soluzione per sostituirci, per in qualche modo surrogare il fatto che l'ente pubblico è completamente privo di risorse. Fondi per l'istruzione e per l'edilizia scolastica forse ce ne sono, almeno così si sente dire, ma solo per le scuole a rischio. Stiamo ancora cercando di portare a termine due progetti, due iniziative. La prima iniziativa sarà sabato 23 a Torrepellice. Ci sarà una serata per i giovani con open bar a 7 euro e i soldi ricavati andranno interamente alla casco. La seconda iniziativa è questa domenica nel Castello di Osasco in cui si esibirà un'orchestra o un conservatorio a offerta libera. Queste offerte andranno come tutto il resto a questa causa. Ci siamo resi conto che avremmo dovuto prendere una decisione che compete alla scuola, cioè di stabilire con che criterio lasciare fuori quelli di troppo. E noi abbiamo stabilito come unico criterio che non vogliamo lasciare fuori degli studenti. Chi ha diritto allo studio, ha diritto di scegliere l'indirizzo, per un ampio territorio che è il Pinerolese, l'unico istituto agrario, sia per quanto riguarda professionale che per quanto riguarda il tecnico, è questo. Grazie a tutti.